Biden arma il bazooka atomico contro il Covid. Non è un nuovo farmaco ma un piano di rilancio dell'economia da 1900 miliardi di dollari, approvato sabato sera sul filo del rasoio dal Senato di Washington. Questa nazione ha sofferto troppo e troppo a lungo e ogni dettaglio di questo provvedimento è concepito per alleviare la sofferenza e soddisfare i bisogni più urgenti della nazione e metterci in una posizione di forza. Bisogna cominciare col battere il virus e vaccinare il paese. Le risorse di questo piano saranno usate per accelerare la produzione e la distribuzione dei vaccini e per fare in modo che ogni americano sia vaccinato presto o tardi. Contiamo con averne abbastanza per la fine di maggio. Infatti le misure direttamente legate alla lotta contro il Covid prevedono 49 miliardi per i test e per la ricerca e 14 per la distribuzione dei vaccini. Sono previsti anche massicci aiuti per i disoccupati. È stata una lunga giornata e una lunga serata e anche un lungo anno ma un nuovo giorno è arrivato e diremo al popolo americano che gli aiuti stanno arrivando. La settimana prossima il testo legislativo andrà alla Camera dei rappresentanti dove i democratici possono contare su di una maggioranza cospicua.